alla fine del girone d'andata il 28 dicembre dopo il pareggio a Salerno con la Salernitana 1-1 ma in campo per l'Artena anche un altro ex lo vediamo subito qui coinvolto in queste protagoniste è subito un'ammunizione per Maggio quindi subito ammonito nello scontro con Maggio ancora dei felici il traversone al centro di testa Maggio esce Giuliani rispince anticipa l'attaccante Azzurro Stellato Torinese va al rilancio verso di prima gira questo pallone per De Felice che ne approfitta De Felice dinanzi al portiere però viene contrastato al momento del tiro chiedono il rigore i calciatori della Paganese che infatti viene messo a terra è davvero dubbio al momento del tiro De Felice viene contrastato contrastato non c'è il rigore ma riparte l'angolo il tiro Rota Rota la sblocca il Bember la sblocca lui Domenico Federico Maggio Paganese 1 Vistartene 0 Tapin grande D'Agostino fa finta su Faiella che lo innesca sulla destra c'è Maggio che vuole il pallone lo riceve D'Agostino il tiro di prima di D'Agostino però è sbelengo applausi il numero 2 con il capitano Vasco il traversone di quest'ultimo il colpo destra di Odense para al 32esimo la prima occasione parte il traversone D'Agostino a rientrare i pugni a liberare Di Giuliani poi Brugnano ci prova dalla distanza pallone che termina fuori anzi Maini scusate Odense si libera in aria Odense guadagna il fondo il traversone il tiro respinto sulla linea Luca Moro occasionissima per l'Artena poi guizzo di vivacità da parte dell'Artena in questo finale di tempo ancora De Angelis al traversone il colpo di testa di Odense è para e quindi partiti in questo istante in linea difensiva con a tre Maccherini di Somma e Capone gli esterni di Cerno elaborato con Vasco pallone che non giunge in aria si libera proprio lo stesso Vasco il traversone di quest'ultimo l'uscita di pugno di Luca Moro a smanacciare il pallone pallone che se azione ancora in aria di rigore Sirignano il tiro va direttamente sul fondo Sirignano di Somma ottima la girata di Maggio che viene anche colpito poi da Agostino allarga per De Felice che è pronta ad entrare in campo il tiro di De Felice ed è fuori all'undicesimo bella le stregge il pallone dalle parti di Somma ottima la girata di Maggio che viene anche colpito poi da Agostino allarga per De Felice che è pronta ad entrare in campo il tiro di De Felice ed è fuori all'undicesimo bella azione Giuliani fa illo a Domestica il pallone lo mette a terra con le mani non c'è fallo per arbitro il tiro dalla distanza blocca a terra Moro consecutiva della Paganese che avviene in questo istante ad opera di Maggio che regala una nuova vittoria agli azzurri che cominciano nel miglior dei modi il 2023 battendo la Vissartena per 1-0 grazie alla rete del Bomber Maggio grazie a tutti